ciao ragazzi appunto e oggi lui farà lo speciale 700 iscritti e giocherà ai primi 4 FNAF ciao ragazzi io sono i Pirox io Fox e oggi festeggiamo lo speciale 700 iscritti ragazzi grazie veramente per tutto il supporto che mi date e in più oggi abbiamo come avrete visto il Fox che fa per la prima volta appunto il Face Reveal e probabilmente però Fox lo conosceranno tipo 30 persone perché nel canale ci è apparso solo nei primi video giusto bravo beh in ogni caso io direi di non perderci troppo in chiacchiere e iniziare subito col primo FNAF ok ragazzi eccoci qua in FNAF 1 allora se vi chiedete che ruolo a Fox oggi è quello del supporto mondiale, commentatore e aiutante nel aiutarmi appunto psicologicamente a fare due ore e mezza di FNAF probabilmente senza contare l'editing e inoltre a fare con notti impossibili tipo io appunto qua parto dalla custom night perché ho già fatto le prime sei notti appunto in video scorsi che se non avete visto andatevi pure a recuperare comunque io direi di metterci lì tutti al 20 ok ok eccoci qua Fox consigli per la notte? allora guardate il canale ma che bei consigli eh figo oi eh no eh ciao for ready ok eh ah 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 ovvio si prova a spammare su freddy passo tutto il game a guardare freddy e dipende perchè c'è di foxy che io non mi fido freddy è un pazzo si resta lì cica resta lì lo sapevo ah freddy parca miseria perché devo avere la mano troppo veloce per andare su freddy si si questa è la partita giusta deve esserlo si infatti ok sentito cica in cucina per un millisecondo non sento eh foxy canta quindi ancora nella tenda però significa che nello stesso momento c'è anche ok eh lo capito freddy che mi vuoi bene ma mamma mia quando non mi chiudo la porta a primo click che fastidio ah bonnie non scatta né tre chica chica dimmi qua dimmi ogni volta quando scatta l'ora eh Dario ok ok è ancora fattibile oh non mi fare scherzi eh chica non chica no vai via lo sapevo io non mi metto a guardare foxy non mi interessa se mi fa il jansker mi fa il jansker mi fa il jansker e capirò che ora devo controllarlo la prossima notte però oh impegnarmi più di così non posso veramente ho attivato una try air mod che non ho mai avuto in fnaf oh se completo la 20 20 la si la 20 20 la 4 20 ho appena perso un botto di energia che ore sono? cioè quanto scusa che ore sono? percentuale 24 24 23 il mio king il mio king nascosto di fnaf dice che forse se non mi baggo adesso con freddy c'è la possibilità di vincerla con la power off boni tu sei la mia rovina con il ah si vabbè quando dei liri in fraffa ci ha avuto non capisci neanche più che animali ci sono uh boni si lo sapevo chica uuuu ah qualcuno si è mosso ma nessuno è venuto strano dai che in futuro cercherò di portare anche fnaf plus e lì si che si sclererà per sim sto perdendo eh devi dire quanto percentuale c'è tra quanto scattano le 5 non lo so devono scattare prima 5 del percento non so se ce la facciamo eh o freddy si mette a fare la sua canzone lunga bella lunga eh no è boni però non me lo vuole permettere che cosa ho fatto no è troppo tardi no se ce la fai sei punto però in teoria no 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 ha durato troppo sentite un attimo c aspetta aspetta porca miseria c'eravamo veramente quasi quasi no è passato troppo dai ha infatti ah mamma mia si ma dovrebbe scavare chica chiquita chiquita boni 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 chiquita chiquita eh ragazzi note selvaggia mamma mia questi qua ti vogliono attaccare come se non ci fossero domani ah 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 ma c'era anche boni no mi sa che era chica allora che si era spostato ah 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 ragazzi vi giuro che questa è una risata isterica mi dì le due del mattino devo scattare prima del 65% e io che avevo in mente di fare pure un video dove cercavo golden freddy qua aaaaaa aaaaaa chi era entrato? credo boni dai 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 no no sto perdendo il giro chica? chica! dai fortuna che l'anno 37 si levano velocemente eh 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 non non avevo... ah no 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 non riesco neanche più a parlare non mi avevate detto che c'era un party qua se no vi giuro che qualcosa l'avrei portato da mangiucchiare aaaaaa chica nooo chi è? lì lei lì la aaaaaa uff 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 oh mio dio ti prego no ti prego aaaaaa chica dimmi quando ho scattato le tre aaaaaa forca mis... uff uow wow non scattano ancora le tre Porca miseria Oh entro il 45 Entro il 45 Siamo al 46 45 dimmi se scattano Porca miseria Questo è un problema Quando scattano Peggio della scorsa partita Ok 41 Del 4% Ok Eh no Devo un attimo riprendere il giro Mi sono un attimo perso Mi sto perdendo Non mi sento più nel giro Ok Ah Ah entro il 25 Devo non scattare le 4 Boni si dovrebbe essere levato Però non riesco a... Da! Perca miseria Quel 2% è stato Sprecato Piuttosto dite che sono il secondo 4% Perfetto Sì 4% 4 Wow Qualcuno si è spostato Ah No 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 La mia percentuale Devono scattare le 5 Almeno entro il 10 Dai Dai È entrato qualcuno Ah È uscito Boni Dimmi che scattano le 5 Entro il 9 Dai Non Entro il 9 Maledetta Ma Eh Siamo messi come prima Entro il 6% Per essere circa come prima Oh Non vogliono scattare Quel numero non vuole cambiare 5 5 300 No ragazzi È impossibile Cioè Dai Oh Veramente Freddy Si mette a fare la sua canzone Per due ore Ma Ah No Infatti Non capisco perché non scendeva C'è messo qualche prima No Non è bastato Mmm Dai Memmi del canale Le Le ultime notti Le ho sempre finite Perché Perché Esatto Appunto Perché Appunto 6 del mattino Aspetta Aspetta Ho toccato il microfono Cavoli La sala ce l'ho lunga Eh No Sti 6 del mattino Maledetta E prendiamo Se 3 stelle No Non è ancora detta Non è ancora detta Non cammina Me la fa da un momento all'altro Te la fa Te la fa Sei finito Di poco Di poco Di poco 4 del mattino 4 del mattino Buono 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 Eh no Eh buongiorno Sono arrivati I pareggiatori di conti Veramente Loro hanno detto No I drop a power Giù giù Quindi adesso Per un po' Non mi romperete Le scatole Questa è la logica Giusto Ma Bonnie È strano Se non lo becchi È diverso Con Bonnie È la cosa Contraria Adesso scattano le 5 Siamo veramente potenti Sì ma La vedo dura Che scattano adesso Le 5 Tra le 4 e le 5 Secondo me Passa più tempo C'è Come un bug Perché non è possibile Dai 5 del mattino 10% Ragazzi È una buona meta Poi in realtà 11 ma Sì ma capite Che è veramente Poco il tempo Che poi abbiamo Restante Perché c'è Freddy Che bisogna Cagare Ed è un problema Ehi Ho perso Ho perso Ho perso Ho perso il giro Ho perso il giro Ho perso il giro Ti prego No No Chica Chica No ragazzi Non ci spero Neanche più Ormai Aspetta No Sono di Freddy 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 Ti voglio bene Senti tuo naso Che bello Boink 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 Mano esistono Le 6 Bat Il naso Di Freddy control Boop Se Se Ah Le 4 20 Oh Non Guardi Puglio per la tua vittoria del posto che ti ha aiutato a perdere i fatti 3 stelle Ragazzi 3 stelle wow wow Tutto potente dai adesso ci facciamo una notte così Ovviamente i numeri li ho messi a caso eh Li ho messi a caso Eh gol di potente Ti ha molestato Lo sapevo Perfetto ragazzi siamo in FNAF 2 e io direi di non perdere troppo tempo e iniziare con la notte 1 Consigli? Sopravvivi Belli consigli del Fox ragazzi ricordatevi Sono i migliori Io ora sopravviverò Allora FNAF 2 non... Quale dubbio? Che tu sopravvivi Ah effettivamente Allora FNAF 2 vi dico Non lo gioco da veramente qualche anno quindi Cioè so cosa bisogna fare più o meno Freddy tu funzioni Si Però non lo gioco da veramente un bel po' La flashlight Let's rock, let's sit, let's party e let's play Perfetto la prima notte è abbastanza tranquilla quindi Eh Che belli che sono Eh Bani è partito Dove sei? Eccati qua Venga guardate qua che bello toi banni Te banni Una toi cica selvattica Ma la mia inquietante vista tu e cica così Eh Tac 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 Music box se mi finiva la prima notte il music box Ok Non ci preoccupo Sia bella Che ci fai qui? Cosa fai qui? Tu vuole far male però Eh Immagino Cica tu sei ancora lì Ma si Sono calmi al momento Cica Non vedo più cica Non ho mai capito come funziona cica Mai mai Io non mi fido io non mi fido Io me la tengo Non mi interessa Ecco si inizia Va bene Va bene Ok Perfetto Signoris Ciao Freddy Quel pupazzo di Freddy lo dovrò avere prima o poi Ma poi arriva in un video Boh prima o poi si ragazzi Che io in realtà ho una bella collezione di Fluff Solo che Non ce l'ho qua dietro quindi Vabbè Quindi non posso farvela vedere adesso Ma prima o poi ve la farò vedere My collection Non è niente di gigante però qualcosina Ma Ragazzi dove siete? Mi attaccate prima delle sei vero? Notte vuota? Eh esatto Se la prima son calmi significa che già dalla seconda ti iniziano Eh È sempre così Ecco lui L'ho sentiti E non sto neanche più a controllare la La music box Tanto Salve signore Musica Musica Ma si La lasciamo così No Ah infatti vedi Ecco qua Sono scattate le sei Ma è la prima notte voglio anche vedere C'è sempre il dubbio Il mio tallone da kill sono Gli white red Non Foxy però gli altri Vediamo se ti ricorderai ancora come fermarli La maschera è molto semplice Ho detto che non ci gioca l'anima non è che Ma c'è bisogno di un tempo specifico o no? Boh da quello che ricordo Nei condotti non li vedi quindi Quindi credo che devi Metterla tipo quando appaiono e basta La roba del game mi ricordo perché ci giocavo da telefono Installato da epimod alle medie Sul bus Ed ero arrivato massimo alla notte quattro La mia volta non capivo perché Nei condotti Dalle luci dei condotti non li vedevi Dovevi per forza vedere la telecamera In più Quando ti apparivano a me Jumpscheravano quasi sempre E solo quando ero veloce che non lo facevano Quindi presumo Presumo Che sarà ancora così Un altro problema che mi ricordo era Mengel Io Mengel me la ricordo sempre nell'ufficio Non c'è il suo problema? Boh più per i miei amici in realtà No a me non capitava quasi mai Mi capitavano sempre Sempre Freddy, Chica e Bonny E Bonny Li Wider da Jumpscherarmi Quasi sempre Engel forse una o due volte Haha ciao Vedi che io quando parlo della gente appare Io mi chiedo Eh si è così È destino è destino è destino Ti vedo eh Una del mattino Buono sei ancora vivo Buonissimo Ma in generale le prime due notti non dovrebbero essere niente di che È quando inizia la tarta a stare White Red Bonnie che è un problema Eccoli Questo è Foxy Questo è Foxy Toi Freddy? E chi si ricordava di te Toi Freddy? Mangal Mangal No 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 Mangal Ti prego no man goal Mangal no 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 man goal No man goal Ti prego non te non te Porca miseracica Oh che è successo vedi che Mangal e Fox Orcavoli Oh la music box Sono andati via tutti e due È il mio momento è il mio momento Tutti tutti tutto 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 Bene perfetto Ce le due del mattino Due del mattino diciamo Dai Sono pronto Sono pronto Non sono mai stato così pronto Eh Sento la gente È un problema adesso È perché c'è Mangal Sì ma sono l'edita del mattino Del mattino Oh no Io non mi fido che magari mi appare un White Rage adesso Eccoti Chica Chica Ripeto Non ho mai capito e mai capirò quando è che attacca e quando È in mezzo che c'è Fred Eh ho capito ma non è che posso farci tanto Ok Sento la gente arrivare però non la vedo Mi sa che allora è un White Rage che tipo devo Devo fare subito una roba del genere E non mi ricordo se si attivavano la 2 o la 3 Li White Rage A 13 Ma secondo me sono già attivi solo che non stanno Non mi hanno ancora attaccato Per fo... Cioè Guarda, guarda Seriamente non vengono Foxy Foxy Vai via 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 Mangal vai via Brava Mangal No no io Mangal non la voglio non mi interessa Mi può arrivare chiunque ma Mangal no Perché Mangal poi si infissa Tipo Balloon Boy Oh cavoli Oh cavoli Ne sarà veramente poco Le cinque 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 C'è Non c'è Foxy L'importante è che non arrivi Foxy Nooo non arriva Eh no Freddy Di Ho sentito un Balloon Boy di troppo Solo? Sì Ho la batteria totalmente scarica Adesso ci sarà Foxy probabilmente Eh non mi fanno accedere la luce Non c'è Non c'è Ok allora No 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 Non può Non può farlo Se c'è Ok 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 la music box non la calcolo più adesso Perfetto dai notte due Adesso si va a morire con la terza notte E quindi le white red si attiva la terza Se stavolta è morti Passiamo al terzo No dai No no dai Proviamo ad arrivare fino alla quarta La quinta Sopravviverò Ce la posso fare Terza notte Ragazzi Adesso si attiva New white red Un teresì Ah per chi se lo Stasse chiedendo Questo FNAF 2 FNAF 3 eccetera eccetera Li porterò anche In video A parte Facendo la serie completa Questi sono solo È solo un video fatto appunto Per lo speciale In cui gioco un po' tutti gli FNAF Ma tranquilli Porterò anche gli episodi a parte Perché sicuramente oggi Ho finito Vabbè FNAF 1 perché Mi mancava solo la 420 Ma Questi altri Non credo che li riuscirò a finire eh ragazzi Perché Ci vuole tempo E se no ci siamo qua veramente troppe ore Chi è? Bonnie Che bello Oh boh Foxy 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 Ti do un consiglio Mh Quando c'è Bonnie a qualcuno Fai telecamere subito dopo maschera Iper rapido Sì Ma Sì Vediamo se hai saluto Aspetta che Ma in teoria sì Eh con Con le white red devi essere veloce Dove è il mattino Dove è il mattino Abbiamo un Bonnie selvatico Bello Bello Haha Bonnie pensavi eh Pensavi eh pensavi 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 che ci fosse Foxy Ciao Foxy Ok Io spero che sia Foxy quello che sei andato È arrivato Freddi Freddi Maledetto Ma Freddi Ma non Ma non ti ricordavo in questo gioco Mamma mia Freddi Da Se mi fosse arrivato adesso sarei morto Freddi È un grande problema È un grande problema Se dovrebbe essere andato Sì Sai chi non se n'è andato? Freddi Eh no Non ho più E ne È perché c'era già Bonnie che mi attaccava Non mi poteva attaccare Non so Mi fa stare che no Oh cavoli Lo sapevo Oh non c'è Foxy eh È un grande bene Adesso non posso più Con... Eh mi sa che però il Puppet non lo controllo più Chica... Chica è brava vedi È brava in FNAF 1 ed è brava in FNAF 2 È brava un po' in tutti i giochi ecco Adesso C'ho Bonnie È strano che non ho ancora finito la... La power Oh no Sei nel mattino Eh ragazzi Si va la notte quattro Eh sì Vai Notte quattro Vedi sei sopra lì che dieci a fare lì Ma se stavolta muori E mi passa la terza Ti ho su sta sfida Ci sto Adesso dovrebbe farire goldi Eccoti Sia bello Come stai? Del tipo Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ti sta guardando nello stesso modo? It's me Che bello Va bene E adesso Son cavoli amari Va bene Il music box Scende come se non ci fossero domani Che è ovvio Vengol Ma... Ma... Che piacere Boh Foxy Eccolo E' già arrivato Foxy E ma chi vuole che arrivi per prima E' sempre Foxy Vabbè anche Bonnie è abbastanza veloce ad attivarsi Però Meno di Foxy Ok se n'è andato Foxy Bonnie Ah ah Bonnie Pensavi eh maledetto Mangal No Mangal prende l'evento Mangal non prende l'evento Cavoli Che fortuna Aspettate un attimo Fatemi ricaricare Mangal è andato all'evento Bonnie è andato all'evento Adesso Bonnie non scherza più tanto eh Oh my toy Questa La white of the night Veramente Oh rega non ho più flashlight No no Foxy No no Foxy Speriamo che Se ne deve andare Non posso più fare tanto eh Oh rega non è andato all'evento Non è andato all'evento Adesso è andato all'evento Non posso più controllare il puppet Praticamente Dai oh notte 4 Non posso battere il mio record Oh no Oh no La flashlight La flashlight Dai Sei Quinta notte Nuovo record personale questo Quinta notte Wow Puppet Ma questa Eh scusa Che c'entra Puppet So già che c'è Adesso Adesso Puppet diventa un infame Puppet Insimini di nuovo Va bene Ragazzi Quinta notte Se muori Si passa al terzo Questo si sa già Ah si subito Guarda 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 Mamma mia Ma si può Ma si può Adesso Ma Golden Freddy Secondo me Era già attivo Appunto Dalla terza notte Lì la prima Oltre che ha apparso Ho sentito Ballon Boy Che salutava Eh ma Ma perché Quando lo vedi Poi muori Io non ho mai capito Eh no Foxy Non iniziare No Non stanotte Ti prego Stanotte È proprio La notte Sbagliata Ragazzi mio Ok Sono andato Mangol No 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 Mangol Anche te Mamma mia Si può Oh non sono ancora morto Una volta Troppo potente Troppo potente Troppo potente No ragazzi Se faccio la quinta Io mi Guarda Massimo la quinta La sesta Poi proviamo a completarla In video a parte Cioè Non Pazzi Pazzi Ma È già tanto Se riesco a fare la quinta Non sono mai arrivato Così avanti Ok Vediamo Vediamo Chi è Adesso Mangole Foxy Mangole Che ti sta Prendendo Ufficio Mangole Ci ha messo Anche poco Mi fa male Puppet Ti sento eh La sento È Mangole È Mangole Se n'è già andata Foxy Pazzo Arca miseria Ragazzi Si passa a terza Scherzavo Tu devi sentire i versi Che fai Che succede Cos'è Non so Non so Credo che sia una cosa automatica Se muori Non lo so Sta facendo versi strani Sta ruttando Cos'è questa A me sembra più un'anima Tipo Va benissimo Così ragazzi Si passa a FNAF 3 Ok ragazzi Siamo in FNAF 3 E io direi Di iniziare FNAF Di là un po' Sì Ok ragazzi Foxy è un attimo sparito Ma Sono scattate le 6 Del mattino Quindi la prima notte È stata abbastanza tranquilla Adesso Abbiamo qua Il minigame Eccolo qua Freddy Eh io questo me lo ricordo bene Follow me Shadow Freddy Va 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 Arriva qua E poi Arriva Afton E lo uccide Carini comunque Il minigame di FNAF 3 Seconda notte Allora Sai che in tutta stanotte Non l'ho ancora visto Dov'è Ah eccolo Infatti In frattempo Anche è tornato Fox Allora Eccoti qua Il trucco è tenerlo qua Perché Se lui prova ad accedere la venta Noi qua Lo chiudiamo Vedete In questo modo Felice Se lui prova a scappare Noi lo riattiviamo Qua almeno Finché riusciamo Ecco I primi errori Questi errori Come gli è venuto in mente A Scott Di complicare così La vita in un gioco Già FNAF 2 Si è proprio impegnato Ma Te pareva Oh sono riuscito a scappare Dai 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 Due del mattino E sei ancora qui Buono La ventilazione Ma guarda Già nei prossimi video Porterò Five Nights at Candice Anche Anche Quale Dos Nights at Rage C'è qualcosa Di genere Boh Comunque Fan game Pian piano Li porterò Di genere Di genere Tra una cosa Tra una cosa Vabbè The Geocreation Magari Prima o poi Però Non lo so Perché l'ho visto The Geocreation È una cosa veramente difficile Quando avrò tempo Lo farò Ok Eh no Dai 4 del mattino C'è solo un unico problema Springtrap Volendo Ci mette due secondi A tornare Quindi Ecco Dimmi che sei tornato qua Grandissimo Ovviamente ragazzi Come ha detto Foxy in FNAF 2 Continuiamo a fare Sta cosa Che appena muoio Cambiamo game Perché se no Ci siamo veramente Un'infinità Giusto? Certo che però Sono le 5 del mattino Da 6 ore Tipo Oh Beh No No Ho sentito rumori strani Va bene così Dai prossimo minigame Avanti Forza Su Bonni Ah Adesso ti faccio vedere In FNAF 1 mi hai stressato così tanto Adesso ti faccio vedere cosa succede Segui l'orso viola Segui l'orso viola Ma io non lo so 8 bit bonni Error Tiè Maledetto In FNAF 1 e in FNAF 2 Mi hai stressato come se non ci fosse un domani Ah Va bene Dai Signore Ok Springhi Springhi Ah Springhi Springhi Aspetta eh Si ha sentito Perfetto Ci ha messo solo un attimo a capire Dove sei andato Dove sei andato Dove sei andato Dove sei Ah sei lì quindi Vieni qua Bravo ragazzi Questa è una tecnica abbastanza vincente Con questo dovremmo riuscire a passare anche la notte 3 Poi dalla notte 4 Non lo so perché Diventa Difficile Dove sei Sei lì E allora non ti posso rimandare qua Porca miseria Eh no Eh no Eh no Se adesso Fa quello che penso io Significa che ce lo ritroviamo qua davanti Una del mattino No freddi No no Ok Grazie Maledetto Ma guarda qui Sarà meglio Ma io non lo so Cosa volevi fare Ciao freddi Quindi Spring trap Eccoti qua Perfetto Ma si Abbiamo la situazione sotto controllo Eh no eh Torna qua Ma io non lo so Ciao freddi Quarta volta Dove sei andato Sei andato da qui E allora Sai qui quanto vuoi Ovvio Ma Il Phantom Foxy dov'è Io mi ricordo che era lui Quello che faceva Prendere l'infarto In sto gioco Eh si Spoonava lì con Con i toy Almeno quello che rimane Dei toy Torna qua Eh non lo so Ma come si permette Audio Line Grande Mamma mia Basta Cosa Ah si Entrato nei condotti Però E' meglio Se entra in quel condotto Perché tanto Quel condotto E' lì Chiuso Tranquillo Ma Perché l'ho visto L'avete visto anche voi Per due secondi E' stato in due posti Nello stesso momento Cos'è stato Signore dove vuole andare Ha capito che ormai Questo è il suo posto Cioè E' tutta la notte Che ti teniamo qui Dai Povero Afton 70 anni Probabilmente Ok 6 dal mattino Prossimo minigame Adesso mi vendicherò anche Con Con Cica in teoria Con Cica Guarda Carl Il cupcake Guarda Carl Imponente Invece no Tu Cica Tu mi hai fatto perdere In Fluff 2 Se no potevo fare La notte 5 Probabilmente Dimmi che però Carl resta vivo Carl 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 Grande Carl A parte Fluff 1 Che è nell'ufficio Però Allora No Sprintrop dove sei Sei già sparito Ah no Eccoti Eccoti qua Come ti si vede Proprio poco Vieni qua Perché non vai lì No Dall'altra parte Sprintrop Io credo di aver capito Cosa tu vuoi fare Audio error E si va A riparare l'audio Uh Dai Notte 4 No Ah si ok Vieni qua Vieni qua Molto bene Ah già che ci siamo Facciamo che chiuderla questa Per sicurezza Vieni qua Mi è spadito Sprintrop Già c'è Adesso potrebbe essere Che ce lo ritroviamo qui Ci mette due secondi lui Dove sei? E' in una venta Ma non so quale Grandi Oh per poco Guarda che ci arriva Direttamente all'ufficio Da lì Dai O poi non l'ho mai visto in quella venta In tutta la mia vita La prima volta che lo vedi lì Probabilmente le volte che mi uccideva a casa Perché non lo vedevo appunto Dove sei adesso? Ragazzi dov'è? È un problema adesso Perché io devo riparare qua Il camera Effettivamente Fox Il camera system è quello che Non dovrebbe mai rompersi Perché L'ho sentito L'ho sentito L'ho sentito Dove? Dove sei? Può continuare a sentirlo nelle lente Dove sei? Sparito Porca miseria Eh no Da dove arrivi? Mamma mia Peccato Notte 4 ragazzi Adesso si parsa Al peggiore Il 4 È la mia rovina Eccoci qua nel quarto Mamma mia ragazzi Io vi giuro No 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 Ragazzi Vi giuro Cinque giorni al party Come funzionava Fox Non me lo ricordo per niente Fnaf 4 Non c'ho Cioè nel senso Le porte Quando sei lì Come funziona la cosa dei Allora 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 Comunque in poche parole Per chi non l'avesse capito Ha detto Tipo Tuo fratello Ti ha bloccato Un uomo nella stanza Così Non Non spaventarti Sono qui con te Ah cavolo Un minigioco? Chi se lo ricordavo? Questi sono i miei amici No Foxy Perché è senza testa Foxy? Tutto che piange E lui è Il nostro caro Fredbear Sta bussando Adesso si mette A piangere Il crying child Domani è un altro giorno No Speravo che non finisse mai Il minigioco Prima no Io ragazzi Il mio record nella vita È stato la notte 2 In FNAF 4 Click To run to the door Singolo click Ok Warning This is a carfi If you are breathing All the doors shut If you don't are breathing Press x To hide the tips F Control E per chiudere No Oh ragazzi Sto schiacciando Tutti i tasti Della stasera Qual è? Come si torna indietro Soprattutto Ah Per capire come si chiude la porta Non so come si fa Per provare Effettivamente anche tu hai ragione Tasto desto Tasto sinistro Niente Rotella Non credo Quale? No rotella Sto dicendo Ma non credo No vedi Non mi fa chiudere Tab 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 No Shift Ok Ragazzi vi giuro Che sono ansatissimo Foxy non arriva la prima notte No Foxy Non credo Sì no è vero Non arriva Forse Ci saranno buoni cica Sì Mi sembra Che c'hanno buoni cica La prima notte Ma dopo un po' Arrivano Io lo spero Io sono veramente ansiato Nella vita Ho preso Questa contro L'Eastletal Sì infatti Signori Sono le due del mattino Ma io non ho ancora capito Quando è che respirano E quando no Quando respirano Non l'ho mai capito Io vi giuro ragazzi No non voglio prendermi un infarto di FNAF 4 No 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 Ragazzi è brutto Piccolo pisello No 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 bonnie no Bonnie Per quanto Aspetta che io devo sentire Oh ragazzi non ce la faccio Piccolino mio No ragazzi FNAF 4 è una cosa troppo Bonnie Non giocare scherzi Ma mi si Quattro del mattino Dai Freddo Aspetta Aspetta Fox È un momento È un momento troppo ansiogeno E mi serve rumore Forza bonnie 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 Non piace la situazione Eppure a me sembra di sentire qualcuno che respira ogni volta Non so se c'è Foxy Non fare Ah io non vado da Foxy No ti prego No raga io la notte 2 non la gioco Non mi interessa Non mi interessa Non posso dai Quando scattano ste cavolo di 6 No no Deve uno scattare adesso Non mi interessa Ragazzi mi potete far giocare a quello che volete Ma FNAF 4 Mi fa veramente Chi era addosso Mi prendo un infarto qua E non porto più FNAF Sei del mattino Sei Vi giuro ragazzi Già prima di te Ti avevi l'ansia Mamma Mamma mia Quattro giorni al party Mie amici, mie amici No, sai che si sta nascondendo di nuovo Ah, ma mi sa che Foxy senza testa è perché è il fratello quello che ha la testa di Foxy Sì, per esempio c'è il formato XXL Eh? E per lui c'è il formato XXL, il fratello lo usa come maschera Eh, veramente Ma sai che gli americani sono pazzi No, 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 io non controllo lì Oh, no, cavolo Oh, no Ciao, ciao Andiamo da Mango Qua programma nella televisione? No Perché c'è Mango? Ah, ma no, questo scusa è il letto Questa è la stanza di Elisabeth Sì Va bene No, regà, veramente No, come mai? Ah, orca YouTube, ti voglio bene Provare una, no, no, no No, ragazzi, no No, no Ok All the GTR to use a flashlight Fun with splash trap Oh, no No Ciao, bello Cinque Quattro Tre Due Uno Oh, troppo 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 ci metti a muoverti Vedi? Vedi? A 40 Ci ho sentito Sì Mamma mia No No La notte 2 No Ma cosa serve sta cosa di splash trap Non l'ho mai capito Due del mattino, grandi Particelle due del mattino, bene, bene Ti voglio bene, splash trap Adesso si attiva anche Foxy No, forse è la terza notte Non mi ricordo Mi sembra di no Però se vuoi va a controllare Forse è la terza notte Devo dare No, forse è la metà Seconda notte Metà seconda notte Siamo già a metà Ah, le tessere siamo a metà Tu vuoi le tessere Questa è la terza notte Plastro più ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Eh no, eh Questa è la terza notte Ho solo scattato le tre A vedere dopo se c'è Foxy Chica Congratulazioni Sei morto E' finito di giocare Come sempre Sei morto Quindi adesso puoi smettere di giocare O vuoi riprovare No? Ok Tutto ok Ti ho ucciso Ti hai fatto male Ragazzi io FNAF 4 Veramente FNAF 4 mi mette La morte Io rischio di morire Di infarto Per FNAF 4 Ciao ciao E qualhi è il mio Questa è il mio Questa è un mio Eλλon으로 Grazie a tutti